Welcome to Mirror TV! Perché era l'apertura del torneo valido, benato shot, al titolo mondiale, però ti dico la verità, primo turno che mi ha lasciato un po' basilo, ma già quando annunciarono sto match, non è che mi aspettassi chissà cosa, però il match proposto tra Orange Cassidy e Will Ops secondo me è stato molto, non pesante, però evitabile, nel senso già quando ho visto Orange Cassidy entrare nella fascia dura avevo già capito tutto quanto l'esità contesa. Se già prima il mio, come posso dire, il mio hype per la contesa era bassissimo, quando avevo visto lì Cassidy entrare nella fascia dura avevo capito che sto match sarebbe stata una lagna pesante con Will Ops che avrebbe dominato tre quarti della contesa e poi Cassidy in qualche modo qualche cavillo sarebbe la vittoria. Così è stato, tra l'altro tutto quanto ha rispettato le mie aspettative, però l'ho trovato davvero palloso. Ecco, è quello il problema, a livello di narrativa ci stava, non potevano fare un Cassidy che te dominava e te faceva il grande match con Ops se già entrava scocciato, quindi narrativamente è stato corretto. Soltanto che poi a livello proprio pratico è stato una noia mortale. Poi con sta risoluzione proprio da deficienti con Will Ops che si distrae da solo con l'arbitro, cioè a un certo punto va a cazzo di cane, va a fare sta discussione con l'arbitro e giustamente da dietro ne approfitta Orange Cassidy di mattino dopo un quarto d'ora che stavano lì a discutere animatamente, cioè proprio vita, morte e miracoli. Evitabile. Su un'altra cosa che ci abbiamo visto lungo però è l'essere pollo di Will Ops. Ora, non me ne vogliono i fan di Will, però questo ragazzo, un big man, che fatica a trovare una certa credibilità non tanto per la questione di vittorie, ma proprio per commentarti dalle contese, sì, mi sembra proprio il classico big man stupido che fondamentalmente fa parte di una gimmick vera e propria. Lui è magari stradominante, c'ha una potenza incredibile, però se perde è solo più bello e questo potrebbe essere anche una chiave di lettura in futuro per il team Taz che potrebbe fargliela pagare a Ops per essere così stupido, ovviamente, sul quadrato. Boh, la vedo un po' una gimmick vecchia, cioè... No, già vista e rivista. Sì, ma pure vecchia, pure vecchio stile, c'è lo scimmione che dà le botte e basta. Non è interessante. Ora, la Oletch è sempre puntata su questo Will Ops e vediamo, vediamo, però secondo me non è molto riuscito. Non è interessante più che altro perché già ti aspetti sempre un po' tutto. Poi se continua a perdere queste minchiate, perché di quello stiamo a parlare, perde anche sul fatto di Powerhouse Ops dominante e poi se perde un bicchiere d'acqua. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Passa quindi il turno Orange Cassidy che molto probabilmente affronterà Jon Moxley con la finale che sembra veder finalista proprio l'ex Lunatic Fringe, però sono interessata a sta contesa. Spero che il Orange Cassidy non si presenti ancora con la fasciatura, perché poi lì Moxley già parte favoreto. E no, poi già parte che gli giro al culo, perché gli giro al culo a Mox e te lo scorcia facile. Non è una cosa che mi piacerebbe perché comunque Mox e Cassidy è un bel match se proposto come Dio comanda. Questo torneo effettivamente ha dato luce, darà luce a due match molto interessanti, che è Brian e Mox, perché è proprio la finale con Brian e Mox, e Cassidy e Mox, che è tanta roba. Detto ciò, iniziamo a parlare di qualcosa che ha diviso Mepeonia, ovvero il segmento di Penta Zero Miedo con, inizialmente con Tony Schiavone, che aveva chiamato su Ring il componente dei Lucia Brothers, non ho capito perché fosse assento il Ray Phoenix, probabilmente per l'attacco mi viene da pensare questo. Fatto sta che giustamente, che succede? Quando Tony Schiavone prova sempre a fare le domande, succede qualcosa. Stavolta è successo qualcosa attorno al ring, con due tipi mascherati molto simili alla Super Ranas, che stavano lì a deridere Penta Zero Miedo facendo così tutto il tempo. Penta li nota, si fa rodere il culo e che va a fare? Scende dal quadrato e li va a smascherare. Io penso che giustamente Penta pensasse che ci fossero gli FTR sotto quelle spoglie, e invece c'erano due tipi probabilmente assoldati da qualcuno, Andrade, chi lo sa, un GF, magari quei soldi che anche assolano Andrade, però, ecco, questo non ci viene spiegato, ma lì giustamente è stato successo, secondo me, molto bene quel segmento. Quegli FTR che hanno approfittato, no, di Penta di spalle, che hanno andato ad attaccare fuori dal ring, c'è stato un vero e proprio assedio da parte di Dax, che esce, mi ricoglionisco sempre, che poi va a terminare con loro che vanno sul ring, si ritrovano tutti i titoli di coppia, sia da AAA che da Elite, gli sollevano verso l'altro, il segmento sembra essere per via definitiva lì, invece arriva Pacca a vendicare il suo amico, mettere in fuga gli FTR e anche i buon Tulli, che non ho citato ma c'è sempre, come non è che posso citarlo, ragazzi, ormai Tulli fa parte degli FTR, appena senti FTR tu sai già che fa parte anche dei Tulli degli FTR, quindi scappano da tutti quanti con Pacca che va a assistere per Penta. Perché ti è piaciuto? No, mi è piaciuto innanzitutto all'inizio, cioè vai lì per fare l'intervista, tra l'altro i due tizi mascherati erano alle spalle di Penta, che neanche inizia a parlare, se gira li vede e scende tutto incattato. Però Penta si è girato verso di loro. Sì, ma non mi è piaciuta sta cosa, perché tu vai lì per fare l'intervista, che cazzo te frega che quelli del pubblico, cioè l'ho vista. Ma è ovvio che glielo del fulo, cioè visto che era successo a Danamette, è ovvio che glielo del fulo. Sì, ho capito, però sono due nel pubblico e tu stai facendo un'intervista, cioè neanche hai iniziato a parlare, se intervista, poi non si fanno mai le interviste. Il fatto che neanche hai iniziato a parlare e subito sei andato da quelli, a me mi ha fatto sto accennato, perché non aveva, a parte che per notarli doveva avere l'occhio di farco. Ma tu sei girato e sei visto così, facevano così. Cioè dovevo andare a cercare, perché c'hai una cazzo di platea. Cioè vabbè, doveva andare, l'ha cercati, subito ha fatto uno del culo, ha mollato lì Tulli e l'ha andata a smascherà. Non mi è piaciuto. Ha mollato lì Tony, Tulli, ok. Scusami, Tony, Tony. Tulli ovunque, mi piace, però non so. E poi, vabbè, non c'era Rey Fenix, ok? C'è posta, perché magari... C'era il buon Alex che... C'è posta per l'attacco. Però poi non c'era neanche Pac. Comunque il triangolo è una stable, ok? Perché c'è andato Alex e non c'è andato Pac? Perché Pac non c'era? No, Pac c'è perché deve fare il match. E poi è venuto anche dopo a salvarli. Perché non è andato direttamente lì sul ring, in passiste, insomma, visto che... Beh, quella è una chiave di lettura che negli ultimi vent'anni si è sempre visto. Eppure qua... Perché quelli stavano lì con le maschere fa così? Per provocare, ok? Era un'esca degli FTA. FTA che ascano tutti e quattro i titoli. Però FTA come FTA non mi è piaciuto. Cioè dovevi fare un'intervista, non l'hai fatta. Hai notato due tipi del pubblico e potevi anche non notare. Non hai risposto neanche alle domande, sei andato a smascherarli. No sense. Per poi cadere nella trappola degli FTR. Molto chiamato, molto... Boh, troppo bambinesco forse. Non mi è piaciuto. Ma bene. Detto ciò, fateci trovera vostra i suoi commenti, che è sempre interessante sapere anche la vostra opinione, perché eravamo molto divisi, ma... E poi lo siamo divisi anche per il prossimo match, eh? Tra la dottoressa Baker, DMD. Rick Baker. Contro Anna Jay. Match non titolato, a differenza di quanto disse Peonia, che era sicura di aver letto un grafico. Io ero sicura di aver letto. È ripo, uguale. Però... Meglio, perché che cazzo ci serviva la Dido Shopping? Però perché... Perché ci ha separato? Perché Peonia mi ha... Non abbiamo visto insieme Rampage, e mi ha detto che questo match non le è piaciuto proprio. Ha detto che è stato brutto. Io invece... Tranquillamente ho detto che a me la contesa mi è piaciuta davvero tanto, perché ho visto un'ottima alchimia tra le due, con la voglia di divertirci. E non è da tutti, perché quando c'è la Baker sul ring, c'è sempre sta voglia, no? Di vederla un po' schernire l'avversaria. Ma Anna Jay, a me sto match, mi è piaciuta, perché si è vista la sua volontà di provare a sottomettere in tutti i modi possibili con la sua Queenslayer, che è la sua finish, la buon Britt Baker, che però attualmente ha un ruolo così alto che anche se Anna Jay connette sta finish per uno o due minuti in tutti i modi possibili, perché questo lo si può dire, Anna Jay ci ha provato in tutti i modi a connettere il più a lungo possibile la Queenslayer, ma Britt Baker si divertiva a sgattogliare a destra e a sinistra per poi avere il suo momentum e chiudela in due secondi con la sua finish, che è otto volte più devastante della Queenslayer. Perché ti è piaciuto, poi aggiungo altro, perché ho scritto qualcosa sulla montezza che ora è un numero. No, niente, non mi ha convinto, Baker e Anna Jay, netto miglioramento, Baker a livello di gimmick e interpretazione fantastica, sul ring ancora non la vedo così pronta da poter gestire un match. Davanti c'ha Anna Jay che gli eserva ancora l'imbocco, perché è poco che fa wrestling e io la gestifico. Sarà il suo ventesimo match. Eh, ho capito, però, se vede... No, poi sono pochi. Sì, sì, sono pochi. Infatti ha fatto grandissimi progressi, ma secondo me ancora non mi convince, anche perché molto spesso all'interno delle manovre la vedo timorosa di colpire l'avversario, specialmente quando va con i superkick. Si vede proprio che lei frena il colpo e ci sta una cosa del genere. Quando sui primi match che fai puoi avere paura di far male all'avversario. E questo ci è stato anche detto da lottatori. Però io in Anna Jay questa cosa la vedo pesante. La vedo proprio pesante, pesante, pesante. Poi effettivamente una cosa, una nota positiva nel match, e soprattutto sulla finisher di Anna Jay, ho visto la voglia di volerla connettere in tante maniere diverse. Quello è stato molto bello, perché hanno fatto un sacco di combinazioni. Si concatenavano benissimo tra di loro per arrivare a quelle solete. Però continuo a dire che Anna Jay di fisico e di personalità quella finisher gli stona, perché lei è piccoletta, non puoi fargli sottomettere la gente in quella maniera. Io continuo a vederla che non qualita, non va. Cioè, un conto, se una cosa del genere me la fa Tanderosa, che dici, è piccoletta uguale. Sì, ma quando sta sul ring, c'ha una grinta, che secondo me, Tanderosa potrebbe sorlevar il ring. Se Tanderosa sorlevasse il ring, io ci crederei. Anna Jay, che la vedo timorosa, quando dai kick, quando la vedo che fa la finisher del sottomissione, che deve proprio stritolare l'avversaria, non la vedo con quella grinta di poterlo fare. Io non ci credo. A me non piace Anna Jay con quella finisher. Continuano a farle da utilizzare. Si vede anche lei che non stringe, perché lei non stringe, perché ha proprio i buchi nelle mani. Nelle braccia. Nelle braccia, sì. Si vede proprio perché non si stringe. Ho capito. Lei è piccolina, però ripeto, un conto se me lo fa Tanderosa, che è esplosiva, incredibile sul ring, ci credo. Un conto se me lo fa Nelloros, Nelloros pure se rigide. È grossa, ci sta. Lei è piccoletta e non ha la grinta di una che può utilizzare quella finisher e io proprio non riesco a farla. Quando la vedo... I ritmi di questa contesa sono stati alti. I ritmi sono stati alti. Perché pure Anna Jay è stata... Anna Jay è stata... Oltre che essere stata brava a concatenare bene le cose con l'avversario, è stata anche un'ottima face che doveva rispondere all'attacchio di chi veniva sull'epron. In quel caso c'era Jamie che rompeva i coglioni e lì Anna Jay la buttava giù per poi riprovare l'offensiva su Anna. Scusa, su Big Baker. Sì, ma hanno gestito bene, però Anna Jay non mi convince. Non mi convince, cioè quando la vedo... Quando la vedo che ha paura a colpire l'avversaria, quando vedo quella finisher che non stringe, che non c'ha la grinta per farla, a me mi spengi proprio... Mi spengi tutto. Non mi arriva, sarà una cosa mia che a me non arriva Anna Jay. Però quando io lo vedo, poi lo dico, cioè, non mi è piaciuto questo, 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 non mi fanno entra proprio nel match. Poi io la giustifico tantissimo Anna Jay, non dico che fa schifo sul ring, anzi dico che è migliorata tantissimo. E poi lei è giovanissima, c'ha pure pochi match, ora iniziano a essere tanti, però sono comunque pochi. C'ha comunque gente che... rispetto alla Baker tante rosa questi qua. Rispetto a Tante Rosa, sono comunque pochi e è migliorata tantissimo, però ce n'è ancora questa da fa e non mi convince per queste cose. E qui le ho viste tante, perché pure la Baker non è una top atleta, ha un'interpretazione incredibile, è fighissima la Baker quando proma, ma anche sul ring, è bravina, ma forse messa a Anna Jay non l'ha saputa valorizzare, perché come al solito, quando hai qualcuno bravo sul ring, anche Alessia gli fa fare i match belli. Se qualcuno è già un pochino meno bravo e lo metti con un altro che non è al top, si vede la differenza. Ditto ciò, c'è stato un attacco post-match molto importante da parte della Baker che voleva lanciare ulteriori messaggi, penso anche da Cord, visto ciò che disse settimana scorsa, quindi la Baker ha provato l'assalto all'Anna Jay che aveva sottomesso pochi anzi, ma giustamente Anna Jay è anche un'amica donna. Incredibile, è un'amica che arriva subito poi. E questa è Tanara Conti che arriva di gran carriera, scaccia via la campionessa lasciando anche facendo in modo sì che Baker si dimentichi anche il titolo lì su ring, Baker scappa via con Jamie e Riba, mentre giustamente Tanara, ritrovandosi lì al titolo, lo solleva verso l'alto, manda anche lei un messaggio alla Baker e ci hanno annunciato poi a Dynamet che questo sarà il match femminile per il titolo mondiale dell'Aul Elet con Britt Baker che affronterà Tanara Conti. Anche qua io ho una cosa che non mi è piaciuta, cioè tu vai a salvare Anna Jay che stava venendo massacrata. Anna Jay che è tua amica, ok? Baci, 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 baci. Ci sa che inizialmente devi gestire le tre che stanno a bordo ring, ma una volta che quelle tre se ne vanno, ma invece di alzare il titolo, ma vuoi dire due parole a Anna Jay? Stai bene? Non stai bene? Cioè è andata due secondi lì, stai bene? Sì e no, stava lì così, e poi ha pensato di prendersi le luci della ribalta alzando il titolo guardando la Baker, ma quella stava soffocando, pure lì, a me non è piaciuto, cioè il fatto che vai a salvare ci sta che all'inizio non te l'hai in culi Anna Jay che stava lì venendo massacrata. Non mi sembrava un attacco così devastante che ha preso un assediato che era una capoccia. Erano comunque tre contro uno e avevi fatto un match, ma un minimo andare da lei a chiedere stai bene? Hai chiesto come stava Anna Jay, Due secondi c'è stata, dopo di che ho detto vabbè io ho accortito e mi prendo tutta la scena. Anna Jay, annuito, che deve fare da Nara? Che deve fare? Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Fatto sta che io su Tainara ci avevo visto lungo tre e quattro mesi. Non c'era neanche l'arbitro lì Anna Jay, pure la stanna Jay abbandonata la surrilla e sti cazzi. Su Tainara ci avevo visto lungo tre e quattro mesi fa che sarebbe diventata materiale da me da pay per view perché evidentemente dopo Rubisov e Tanderosa è quella più over. Cioè lo si vede pure dalla reazione del pubblico e forse mentalmente è una di quelle che sta meglio mentalmente adesso sì, che si vede. Io avrei insistito un po' più sul legame tra Tainara perché Anna Jay non è un a caso è la tua amica cioè io avrei insistito più sul fatto di assisto la mia amica poi quando mi sono resa conto che effettivamente sta bene magari la si è rialzata arzo il titolo e guardo la Baker no, prima arzo il titolo e guardo la Baker e poi vado a vedere se Anna Jay sta bene. Che poi a livello storico sto pensando per i brasiliani avere una campionessa a finire come Tainara Conti sarebbe qualcosa molto molto storico quindi penso che sia anche per questo il motivo di mettere quel match a pay-per-view perché può attirare molto interesse in giro per il mondo attualmente Tainara sta benissimo psicologicamente quindi la Contessa la può fare che poi vada a vincere contro la Baker dubbio seriamente. Detto ciò dobbiamo parlare del tabellone del torneo che hanno svelato il titolo TPS no? Che verrà segnato soltanto a gennaio un tabellone che io ho trovato molto interessante partiamo da quello che tutti quanti voi vorrete sapere chi pronosticate come finaliste io ho già ho detto la mia su Instagram però vedendo così il tabellone mi sembra che Rubisou e Jade possa essere la finale ma c'è quella possibile semifinale importantissima tra Thunder Rosa e Jade che mi porta a dire che se se prega può essere che la finale potrebbe essere Thunder Rosa contro Rubisou in modo anche di rivendicare cosa? La Battle Royale che andai nell'ultimo pay per view e quindi lì sarebbe anche un po' una rivincita da Thunder Rosa mi piace pensarla così io spero ovviamente che non ce ne vada Jade in finale perché ragazzi se Anna Jay se Anna Jay è acerba Jade sul ring sta a 20 anni dietro poi dei personaggi forse stanno avanti 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 Anna Jay però però su ring sta troppo indietro la finale perfetta per me sarebbe Thunder Rosa Rubisou anche se dal tabellone sembra che Jade possa essere più finalista di Thunder Rosa anche se tutto può accadere io faccio le preghiere in modo così da cambiare un po' le cose io sono un po' più romantica e vado su Thunder Rosa Rubisou come diceva Miro per la Battle Royale e spero che con Thunder Rosa e Jade che ci sarà succeda qualcosa che faccia partire qualche storyline per Thunder Rosa e per scusatemi per Jade per poi toglierla dal torneo e fare magari una storia in serie ci sono tanti match interessanti uno lo vedremo settimana prossima Serena Dib contro Shida rematch importantissimo hanno messo lì in chiave di torneo che può raccontarti tanto anche magari vince una delle due e poi sul turno successivo quell'altra viene a distrarre la vincita dice in modo da fare anche il terzo match cioè ci sono tante combinazioni anche la Starlander contro Rubisou che abbiamo già visto vincitrice a Dana un'interessantissimo match a livello di match Starlander Rubisou mi piace tantissimo soltanto già a pronunciarlo figuratevi a guardarlo tanti match belli interessanti sto tornando a tirarlo fuori davvero il top del top c'è da chiederci il perché di qualche assenza è normale che Chiara Hogan avendo un periodo negativo non l'hanno messa poi stiamo lì a dire ah ma davvero fanno batte Jamie ad Anna Jay perché quello sembra ragazzi attualmente i personaggi sono quelli che contano il più io penso che Jamie in futuro sarà un ottimo avversario della Baker io ce la vedo un giorno che tornerà sulla Baker perché mi sembra quella donna lì che possa impazzire di punto in bianco e attaccare io penso che posso fare anche bene quindi adesso il periodo ragazzi è importante per le trottatrici e poi questo torneo promossissimo detto ciò Menevent Pac contro Elidolo Andrade una roba davvero straordinaria bellissima la contesa io non so davvero come andare a parlare di questo match perché sono state così tante cose belle che non puoi elencare tutti quanti spot io guardate fatico fatico a non capire no fatico a realizzare a realizzare che la gente non guardi Rampage perché è soltanto un continuo di Dynamite apposta per questo apposta per questo che non è che ci dobbiamo vedere due show perché poi se ti offrono Pac Contra Andrade con un livello straordinario con tantissimo minutaggio con questi due che hanno fatto di tutto hanno proposto pure roba nuova per sorprendere che vedere adesso mi devo citare forse una spot che a me è piaciuta tantissimo Andrade che di punto in bianco si trova lì sull'epron e salta a destra a sinistra le corde per trovare più forza per colpire Pac a me è piaciuto tantissimo poi se conoscevano quindi certi colpi gli schivavano e propone un altro spot subito dopo con lì Pac che si faceva trovare sempre pronto cioè stante Pac è straordinario Pac è proprio un altro livello sta fuori dal mondo Pac nulla non gli andrade ma Pac è sta fuori dal mondo cioè lui è alieno io ho fatto i complimenti a tutti e due per il loro primo match e qua dovevo fare lo stesso identico modo lo stesso identico livello perché si sono superati nuovamente non era per niente facile anche perché il minutaggio era elevatissimo si rischiava nel cadere a volte in qualche spot banale io non ho visto manco uno spot banale però sì tu fallo tu un spot banale assolutamente ma pure quando giocavano lì sull'epron con Pac che aveva capito che andrade avrebbe fatto quel salto in modo da prendere quindi lui ha schivato quindi andrade si è impantanato sull'epron lì Pac è approfittato poi ha fatto poco dopo un monzotto no regà non si fa in nocità è un'alchimia pazzesca due atleti pazzeschi sempre sul pezzo sempre pronti a concatenare gli spot mai nel posto giusto mai nel posto sbagliato poi è un posto giusto o non si può dire bello bello da ricorderci da inizio da fine non con gli highlights ragazzi guardatevelo dall'inizio perché vi divertirete anche perché gli highlights ma che cazzo tagli cosa tagli dove tagli dove effettivamente c'è ben poco come cazzo fai tagli mentre quello sa fare la capriola dove tagli non si sa parliamo del finale perché il finale è molto interessante 4 euro e 50 al mese su pra su fight li vale solo sto match 4 euro e 50 cioè spendere 4 euro e 50 solo se si faccia poi sti cazzo cioè il finale è molto interessante però perché il buon andrade prova a connettervi due volte la sua finisher l'umber lock di dt ma pa che dimostra pure lì di aver studiato bene l'avversario e le evita tutte e due le volte anche con stile perché a volte sembrava davvero che potesse entrare nella finisher di andrade e finire a terra invece l'inglese si inventava sempre di escamotage arrivando poi a vincere il match con una culla devastante ma dopo 20 minuti a quel livello lì dove hanno dimostrato di essere praticamente allo stesso livello ci può stare che il match termini così perché ti hanno fatto 20 minuti no non 4 non 4 te ne hanno fatti 20 minuti dove capisci che l'1 a 1 è un'ulteriore prova che attualmente sono così ci vuole poco per far andare uno sopra l'altro e te lo dimostra pure il modo di chiudere questa contesa perché dopo 20 minuti non è che hanno ricorso alla finish per vincere il match bensì ha una culla che ha sorpreso Andrade e io sono il nostro più sorpreso però da quello che ho visto dopo perché poi è normale che io fassi delle domande sì perché c'è stato questo 3 e invece delle parti la musica del pack si sono spente le luci se so riesci se c'è stato Malaga e Black che tu dici di prima ma che cazzo vuole mo questo Malaga e Black che fa uno sguardo complice con Andrade e sputa il liquido magico addosso il Black Mest e addosso a quindi dici Andrade sei alleato con Malaga e Black tra l'altro poi tutti e due si sono messi a saltare l'inglese sì quindi fai Andrade ha corrotto Malaga e Black poi ci pensi 30 secondi e dici ma come cazzo è possibile che questo Black no sto sciamano mistico che parlava dei traditori tradimenti faceva tutto come cazzo gli pareva attaccava che se fa corrompe dal boss dal boss Andrade e rimani un attimo ma poi però pensi cazzo sul ring c'ho Malaga e Black c'ho Andrade c'ho Pac ma corrompi il cazzo che ti pare ma va bene questa cosa cioè non ha senso a livello narrativo perché un Black che si fa corrompere non lo vedo però gli devi da tempo sì perché pure Andrade con Mgf dicevi in un primo momento dove vanno a collegarsi però è trovato però è più diverso Black ma devi dagli tempo perché io glielo do il tempo però a livello narrativo per ora mi lascia un po' così però ripeto sul ring abbiamo Andrade abbiamo Pac e ci abbiamo afficcato Malaga e Black Anch'io ti do i soldi ti corrompo anch'io rimani lì va benissimo va benissimo corrompi tutto quello che vuoi Andrade andrade dovunque meraviglia ti vuoi far corrompere Black fatti corrompere ti ficchi lì in mezzo fatti corrompere vai fai tutto quello che vuoi va benissimo a salvare a salvare Pac arriva Arnenderson è proprio così ragazzi Arnenderson si presenta sulla rampa facendo rimanere di stucco non solo Miro non solo Peo ma anche lo stesso Malaga e Black è che Andrade che si portano verso di lui con Arnenderson che si ferma lì su la rampa punta la pistola fitta verso loro spara e teccalla che succede boom arriva Cody Rosso ad attaccare ambe due i due nuovi cattivoni che si sono alleati e alla fine vediamo quindi Malaga e Andrade che sfuggono per avere l'attacco di Cody anche che si stava riprendendo Pac e io quando ho visto Cody con Pac ho ricollegato a ciò che accade tanti anni fa in WWE dove il buon Cody Rhodes faceva Stardust faceva Stardust ed era in coppia con Kim Barrett dall'altra parte c'era Pac ovvero Neville in WWE con Stephen Amell però stavolta quindi che succede si ritrovano sulla stessa barca Cody e Pac e io appena ho visto Cody a fare quell'attacco a loro per poi andarsi avvicinare a Pac guardandolo anche ho detto cazzarola mi è dato subito questo feed impressionante no è stato bello nonostante poi Cody abbia le sue problematiche magari magari non essendo uno contro uno ma due contro due con Pac e Andrade in mezzo magari il pubblico si decide a dare le reazioni giuste magari io lo spero non lo so complicato io lo spero poi nel commento di Dano non te capite perché però no cioè va bene a livello logico io ancora c'è stato ma che cazzo ha fatto la corrompe Black ma che frega Black è dei sordi no va bene cioè andrate andrate anche Black va bene bubù cozzo Cody ma no va bene va benissimo detto ciò ragazzuoli fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti come al solito spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale qui sotto in descrizione ho la link a tutti i canali di questa ragazza qui ma anche della pagina Instagram che mi supporta ci supporta quindi proprio da lei Angelique Queen of the Universe e da Vino è tutto Tio Sweet